Rosario dei Santi Sposi per le Famiglie Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto Mistero La Vecchiaia e i Lutti Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni. Chiediamo l'intercessione di Maria Vergine e San Giuseppe perché le famiglie sappiano vivere nella fede i momenti più dolorosi di lontananza dagli affetti e specialmente per i lutti che separano per sempre dalla presenza fisica delle persone amate su questa terra, coniugi, genitori, figli e fratelli. Chiediamo anche soccorso per le incertezze della Vecchiaia con le sue solitudini, la decadenza, le malattie e le incomprensioni che possono nascere con le altre generazioni. Preghiamo perché sia difeso il valore della vita fino alla sua fine naturale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. San Giuseppe, sposo di Maria Vergine, custodisci le nostre famiglie. Per il Papa e per le sue intenzioni, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, Signora con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dolcissimo Signore Gesù, ti prego di esaudire, per i meriti della tua Santissima Vita, questa preghiera che ti rivolgo per i defunti di tutti i tempi, e particolarmente per coloro per i quali nessuno prega mai. Ti domando di supplire in tutto quello che queste anime hanno trascurato nell'esercizio delle tue lodi, del tuo amore, della riconoscenza, della preghiera, della virtù, di tutte le altre buone opere che esse avrebbero potuto compiere e che non hanno fatto o che hanno compiuto con troppe imperfezioni. Amen. Eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Eterno riposo dono a loro Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, Amen. Eterno riposo dono a loro Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, Amen. Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Grazie a tutti.